Un posto al sole anticipazioni 25-29 dicembre, Antonio scopre che la mamma sta con Damiano. L'anteprima della nuova puntata di Un posto al sole. In programma nella settimana dal 25 al 29 dicembre 2023 su Rai 1, dimostra che ci sono margini di ulteriore sviluppo nel rapporto tra Damiano e Viola. I due si direbbero pronti a vivere la loro storia d'amore senza dare troppo nell'occhio, ma non sanno che i loro figli capiscono già come stanno realmente le cose. Soprattutto quando Antonio scopre che sua madre ha una nuova relazione, non la prenderà bene. Nel frattempo, dopo essere fuggita dalla città, Clara torna a Napoli con Eduardo, pronta ad adempiere alle sue responsabilità. Antonio scopre che la madre esce con Damiano, anteprima upa per il 29 dicembre per Viola e Damiano vivere la propria vita facendo attenzione a non destabilizzare i rispettivi figli diventa sempre più complicato. La coppia sentirà il bisogno di convivere insieme, stando attenti a non lasciare alcuna traccia, senza sospettare che il piccolo Manuel sappia già come stanno realmente le cose. Il figlio del poliziotto capirà che ci sono dei teneri sentimenti tra suo padre e la madre di Antonio e deciderà di informare al più presto il suo migliore amico. Dopo aver saputo dai genitori della loro separazione definitiva, Antonio apprende che, grazie a Manuel, sua madre ha una nuova relazione con Damiano e che lui non può essere felice. Il ragazzo non cerca di nascondere la sua amarezza per questa importante notizia, che significa la fine del matrimonio dei suoi genitori, e comincia a comportarsi in modo strano. Clara è pronta ad assumersi le sue responsabilità nel prossimo episodio. Le anticipazioni dei prossimi episodi della SOAP, che dureranno fino al 29 dicembre 2023, rivelano che Clara rimetterà piede a Napoli dopo un periodo di latitanza. La donna è consapevole che l'ex compagno Alberto sta cercando di farle pagare il rapimento clandestino del figlio e sarà disposta ad assumersi la responsabilità delle sue azioni. E infatti Alberto si dirà pronto per ottenere l'affidamento esclusivo della bambina, cercherà in tutti i modi di separare la bambina da Clara. Passato burrascoso tra Clara e Alberto nelle puntate precedenti della SOAP la guerra tra i due ex coniugi si riaccenderà, poiché Palladini ha già detto in una puntata precedente di essere preoccupato per la relazione della donna con il pericoloso Edoardo. L'autore del reato rappresenta una grave minaccia per il destino del bambino e Palladini si è detto pronto a mettersi al lavoro e ottenere l'affidamento esclusivo in questo caso. Clara sceglie allora di scomparire, tradendo la fiducia del suo ex compagno, deciso a vendicarsi.